Il significato di questo patto è molto importante, è la prima volta dal 1978 da quando è nato il Servizio Sanitario Nazionale che la federazione dei medici italiani, degli ordini dei medici italiani e cittadinanza attiva decidono di unire le proprie forze non per rivendicazioni di parte, ma perché crediamo insieme che il Servizio Sanitario Nazionale non sia qualcosa che va commemorato ma va celebrato perché è l'architrave su cui si costruisce e si riconsolida la coesione sociale del nostro paese. Garantire l'esigibilità dei diritti è qualcosa che è molto concreto e dà ad esempio la possibilità ai cittadini di avere uguali diritti ovunque essi abitino che non è un problema solo tra chi abita al nord e chi abita al sud, ma anche all'interno delle stesse regioni, le stesse regioni del nord ad esempio perché quando li trovi in un paese che ha 20 giorni di lista d'attesa per una mammografia in una parte del paese e 200 giorni in un'altra vuol dire che il diritto è semplicemente un diritto di carta e noi non vogliamo che questo sia, vogliamo che i diritti siano garantiti e vogliamo non solo che questo lo sia per i cittadini, ma ad esempio vogliamo che ci sia il diritto ai professionisti della sanità ai medici che operano il Servizio Sanitario Nazionale di poterlo fare al meglio delle proprie possibilità colmando le carenze di organico, dando le dotazioni tecnologiche e strutturali che gli permettono di fare al meglio il loro dovere che prendersi cura della salute di tutti noi. Quindi unire in una piattaforma comune queste esigenze è un modo anche simbolico per sottolineare che ci si prende cura insieme del Servizio Sanitario Nazionale che è un bene comune.